Vieni a decorare quello che vuoi, poi hai tutti i decori tipo le palline. Mano sotto? No, guarda anche gli altri esempi, vuoi fare tutti quelli che vuoi? Vi diamo il benvenuto nello showroom aziendale. Come iniziare alla grande Eurocucina 2014? Con un partner d'eccezione. Abbiamo avuto la collaborazione di Franche. Questa sera abbiamo l'opportunità di avere qui con noi il mitico Bruno Barbieri. Qual è il miglior cuoco esistente sul territorio nazionale e oltre? Allora, il piatto di questa sera si chiama uovo nell'uovo. No, con la punta, con la punta. Ok, perfetto. Conosci questi ingredienti? Penso di sì. Allora, penso di sì, non va bene. Bravi. Esatto. Ok? Con un po' di energia, eh? Può darsi che è migliore questo, dai. Ok. Da che la fai? Dammela di qua. Mettiamo del sale. Voilà. Allora, lei ha dimenticato l'uovo sul fuoco. Lui sta facendo un po' un casino, un bel mappazzoncino, sai di quelli... Qua che piatto è? È la Veneta Cucina. Sempre la Veneta Cucina. Per me sono tutti i due primi in Nazionale. Eh! Eh! Per me sono tutti i due primi. I due primi a fare eccetera, vediamo! Sì, ioliero! Sì, allora, godρώ! L'给我 ecco areas delle nuove aiutate Verte- Io,